Michele Baranovic al servizio, palla tocca il nastro, Marra, deve correre la coscione, dietro, palla sul muro, out, out il muro di Parodi-Josifov, 24 pari, François Lecan al servizio. Levenot in difficoltà, Antonov può rigiocare, coscione dietro, perra, Petsch che va a segno, Eregat, set point. Ace di Lecate, che mette la parola fine a questo quarto set, peccato, due pari, si valta i break, cambio di campo, anzi no, e noi ci rivediamo tra.